ti sei mai divertito con un video di max rispondo nella massima della verità ti giuro gurulandia ah siamo partiti si ah ok ma questo ci sta buono il podcast di gurulandia ciao che sono valte bella sigla io la lascerò così ti piace? lui è valte bella raga sono marco cappelli e oggi a gurulandia abbiamo il number one Steven Basalari benvenuti in senso ciao a tutti ragazzi voglio fare subito una premessa io ho avuto tante volte ospiti che non stimo particolarmente a gurulandia io invito tutti a prescindere poi sarà il pubblico giudicale non è questo assolutamente il caso ti ho voluto fortemente veramente per me sei un grande te lo dico proprio a cuore aperto grazie davvero ragazzi per tutto quello che stai facendo che continui a fare insomma complimenti vivissimi grazie come stai innanzitutto? tutto bene un po' stanco sinceramente al di là dell'ultimo periodo che mi ha portato giorni di duro lavoro però in generale sono mesi che sto concentrando tutta la mia vita sulle nuove attività che sto lanciando su quelle vecchie che avevo come number one eccetera insomma sono stanco anche perché sono da solo e avrei bisogno di un po' più di Steven Basalari infatti ne fai due miliardi difficile veramente guarda lo dico qua ma faccio un appello sto cercando dei manager che possono aiutarmi anche a scalare i miei business perché poi arrivi a un punto che da solo arrivi da qua a qua non puoi andare oltre ovviamente devi delegare devi delegare esatto e quindi adesso sto cercando proprio di trovare un'equipe che possa aiutarmi a sviluppare soprattutto le nuove aziende che ho appena creato o quelle che ancora ho in testa ma devo creare ad oggi quanti business hai? quante società possiedi? società sono scusami se ti interrompo la maggior parte delle persone ormai specialmente si va di social vedono number one e donato quelle sono le due più in trend diciamo diciamo che giustamente poi quando fai questo lavoro che è la comunicazione non puoi neanche fare troppo un minestrone perché ovviamente la gente poi non capisce se gli spieghi troppe cose io feci dei tiktok in passato appunto dove andavo a far vedere un po' di cose poi non è che ho potuto approfondirle tutto ovviamente ho fatto vedere un ristorante che ho a Brescia da tanti anni una cantina di vini che adesso gestisce mia madre negli ultimi periodi ovviamente altre due discoteche oltre al number one del quale non parlo mai una si chiama cacao l'altra si chiama quicklubbing che hanno un ecosistema tutto loro e vanno avanti con le loro gambe anche perché non sono dopate dal mercato degli ospiti come invece lo è il number one quindi che ha bisogno di grossa comunicazione spinta mediatica quindi i social diciamo vanno a braccetto con questo perché il number one proponendo ospiti giovani è perfetto per il tiktok quindi sono tre discoteche, ristorante, la cantina abbiamo società all'estero che fanno immobiliare poi abbiamo appunto questa società con Donato che si è appena creata ma sta dando grandissimi risultati ma come ho già spiegato più volte il mio obiettivo non era quello di aprire la bottega Napoli ma era partire da Napoli per poi espanere esatto, fare una sorta di franchise in catena però per fare questo ovviamente come ho permesso prima serve qualcuno che mi possa anche dare un sostegno perché per esempio adesso vogliamo aprire in altre città d'Italia non posso dirti quale città ma una già è confermata ho già preso l'immobile devo solo fare il video dove ufficializzo però poi appena questa andrà a concretizzarsi dovrò subito passare alla terza, alla quarta, alla quinta questo compromette che io devo prendere un aereo andare in quella città parlare con le agenzie vedere gli immobili trovare l'accordo tutte giornate perse per tutti gli altri miei business che io oh madonna tranquillo alla fine della stagione questa roba viene giù tranquillo anche Max è prima quindi ecco sostanzialmente sono tante le cose sono tante anche all'estero abbiamo società di marketing società di e-commerce come ho già spiegato anche lì delegato altri soci che sono tecnici io invece sono più socio finanziatore di questi progetti imprenditore a 360 gradi e quindi diciamo che non hai proprio un team per il tuo personal brand per mio personal brand no perché comunque diciamo la mia immagine è stata frutto della casualità vi spiego anche come beh insomma dai no giuro la casualità sai perché? perché come tu hai detto giustamente il mio focus social è il number one poi da lì ho un po' variato però sono partito con Bella Raga sono Steven Baselari proprietario della discoteca number one di Brescia e dico che è stato casuale perché dopo diciamo la morte di mio padre di un anno e mezzo fa io ho sentito l'esigenza di metterci la faccia e di dire ok adesso tocca a me no non è un caso se io poi mi sono presentato Bella Raga sono Steven cioè nessuno sapeva chi fossi un anno e mezzo fa e quindi ho dovuto spiegare chi ero e cosa facevo feci il primo video dove mostrai le sette sale del number one e quel video fece un boom pazzesco milioni di visualizzazioni ma nei commenti soprattutto la cosa bella era che si coglieva proprio la multigenerazionalità dei clienti perché io venivo nell'88 io venivo nelle 79 l'arcore mi ricordo io mio figlio mio figlio viene tutti i sabati allora ho detto a Nicolas che è il mio braccio destro dei social social media manager cavolo cavalchiamo un po' il trend del number one quindi tutto quello che è la storia passata la curiosità gli ospiti che arriveranno poi i regali agli ospiti i foro da lì poi il trend l'ho cavalcato step by step ma non è che ho detto mi siedo bene ragazzi oggi ho i soldi voglio diventare famoso non è stato proprio così perché io vi dico la verità TikTok all'inizio lo snobbavo molto ero anche un po' contrario perché TikTok era nato un po' sulla falsa diciamo riga se erano musicali dei balletti sì 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 inizialmente sì e quindi io essendo un imprenditore essendo comunque anche un po' adulto ho 30 anni potevo mettermi a fare i balletti è una piattaforma che non capivo quando poi invece ci ho messo la faccia con questi discorsi qua ho visto che potevo dare qualcosa alla gente sai che io pensavo che in effetti invece tu avessi cominciato TikTok proprio per aumentare quella che è la tua figura il personal brand e appunto poi di conseguenza il fatturato delle tue aziende perché poi si traduce in quello alla fine lo fai per quello è ovvio che nel senso però comunque ti ha portato un incremento è ovvio che quando ho fatto il primo video speravo che potesse andare bene un minimo un minimo perché poi sai fare le cose e non essere ripagati con i numeri in questo caso che si parla di social ti passa anche l'entusiasmo di fare se invece vedi che la cosa piace continui a andare anzi ti motivi sì 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 assolutamente e quindi sì da lì sono partito poi come hai detto giustamente tu è innegabile che mese dopo mese ho percepito che non era più solo un discorso di numeri social era un discorso anche di numeri economici questo perché portando ogni video milioni e milioni di visualizzazioni mi portava anche una percentuale di gente da fuori brescia fuori bergamo quindi l'interland del mio locale molto importante io ho incrementato i fatturati magari del 30% 35% in quell'anno lì già l'anno scorso con tiktok capito e l'ho percepito anche in alcune serate dove magari avevo un ospite un po' più piccolo che magari gli anni prima avevo già fatto magari facevo non so 2.000 persone ne facevo 3.500 perché magari la mia voce arrivava a tutta Italia quindi ora siete l'ospite praticamente del number one anche perché comunque come ormai sei un influencer a tutti i residenti sono meno tanta gente anche per vedere infatti guarda come l'ha donato giustamente collegandoci al discorso ovvio che vai perché il panino effettivamente la qualità te la dà giustamente e perdonato e quindi il number ti dà un prodotto che è la location la storia l'ospite più c'è anche Steven comunque è un personaggio uniamo il tutto e c'è una bella cosa un ragazzo che adesso vuole avviare un'impresa pensi che assolutamente ormai al giorno d'oggi sia fondamentale lavorare sulla propria immagine sul personal brand oppure non sempre ma allora dipende un po' dal settore sicuramente i settori quelli un po' più antichi magari possono anche tralasciare il social o meglio non farne una beh questo è magari chi ha clienti storico esatto però se parti da zero se parti da zero è fondamentale cioè guarda io per esempio comunque non partivo da zero una realtà il number one di 45 anni di storia eppure cioè nonostante 45 anni di storia migliaia di serate milioni di clienti forse in 50 anni comunque ho dovuto dargli la spinta social e ho raccolto i frutti capito e non partivo da zero immaginiamoci se avessi aperto una discoteca da zero con qualche difficoltà magari assolutamente come nasce scusami preparate stime perché io ho 800 domande vai vai facciamo come nasce Steven io lo so già però magari tantissimi no il number one il number one beh poi molti credevano che il number one fosse il primo locale di mio padre ma in realtà no viene fondato nel 1977 fine 77 inizio 78 e come diciamo già una parte importantissima della vita da discotecaro di mio padre perché prima lui aprì due locali il primo in assoluto aveva 30 anni e si chiamava Caloua ed era in una zona di danza sì un locale più esatto dedicato a sì balli di gru esatto ebbe un grandissimo successo ovviamente vi sto riportando quello che mi ha sempre raccontato lui perché io non l'ho visto queste cose erano gli anni o 60 e mi diceva mio papà insomma che quel locale lì gli portò insomma denari molto molto importanti e decise di poi venderlo dopo solo 4 anni per comprare il terreno a Brescia città in centro di un altro locale che poi ancora oggi c'è pensate alla distanza di 50 anni che si chiama Paradiso e qua mi ringrazieranno per la pubblicità e comunque ancora oggi c'è l'ha fondato lui l'ha tenuto questo per tanti anni e anche lì ha raccolto frutti e frutti e frutti finché gli arriva questa proposta in Franciacorta che comunque è un territorio molto importante per il discorso dei vini esatto e anche lì compra una area molto grande di 77 mila metri quadrati che ad oggi è l'area ufficialmente più grande che esista come discoteca poi se parliamo di palazzetto stadio festival in mezzo a un campo ma come discoteca è la discoteca più grande d'Europa quindi insomma a step poi ovviamente si è messo in un giorno l'ha costruita tutta le sette sale famose che ho citato prima sono state fatte a step sala 1 sala 2 sala 3 l'estivo fuori eccetera eccetera e quindi da lì poi siamo partiti nel 78 ha fatto grandissimi anni dall'85 al 95 dove era nata questa musica che prima è citata la musica hardcore cavolo io era 2010 mi ricordo guardavo i video su youtube delle piramidi umane si toccava il soffitto tutti la sala 2 era famosissimo per quella cosa lì esatto sì è vero che mi ha fatto anche molto faticare nel esultare che non è un male per l'amor di Dio però mi racconto un piccolo aneddoto in quei dieci anni lì mio padre faceva giovedì venerdì sabato domenica sera domenica pomeriggio domenica sera quindi cinque serate settimana era proprio un'azienda e incassavano in modo sprepositato poi venne il fatto insomma di un ragazzo che perse la vita non lì ma allora dopo qualche ora all'ospedale per eccesso di sostanze assunte e da lì mio padre decise di spontanea volontà di cambiare totalmente genere nonostante era il boom però non se la sentiva di rischiare perché sai quando qualcuno sta male o qualcuno muore comunque vada il locale il proprietario l'amministratore va di mezzo quindi sono casini sono casini sono beghe è stato indagato tutto risolto in due mesi il locale dopo due mesi va già la licenza per riaprire ma appunto quando riapre nel 2000 decide di fare invece tutt'altro e torna a fare quel discorso che aveva fatto iniziare quindi balera ballo liscio e cioè quindi siamo passati da i rave con quelli che toccavano il soffitto dovevi toccare il soffitto chi lo toccava era il re è vero me lo ricordo anche dal piccolo come lo dicevano tutti Pullman dall'Olanda dalla Svizzera all'improvviso due mesi dopo ballo liscio quindi veniva tua nonna di 70 anni con l'estate in borsa cioè totalmente diverso e lì iniziò un po' il declino del number one dal 2000 al 2014 circa 14 anni di lento declino quindi partendo da una base che era molto alta sempre più bassa fino a che nel 2014 io avevo 20 anni circa perché sì sono del 92 quindi comunque era ragazzino e mio papà mi chiamò un'estate appunto per dirmi guarda quest'estate facciamo una collaborazione ci sarà più gente che arriva al number ho deciso di ricominciare a fare un po' la musica commerciale ti va di iniziare io ero due anni che lavoravo per mia mamma in quel famoso ristorante che ho citato prima e dico vabbè sì perché no al ristorante comunque ci andavo ma sentivo nelle vene che non era il tuo poi ovviamente sono andato lì per la prima volta nel 2014 non a fare il capo ovviamente perché ero inesperto ho fatto i lavori più umili che si potessero fare quindi il magazziniere scaricavo i bancali quando arrivavano i recuori sì ho imparato a fare il barista ma quello è giusto anzi sicuramente ti serve tantissimo anche adesso aver fatto quell'esperienza lì assolutamente comunque secondo me perché se no la gente ti prende in giro ma poi il capo di un'impresa deve sempre sapere come si fanno i lavori che sono sotto e scusa Stephen però tornando un attimo indietro hai parlato di tutti questi grandi investimenti che ha fatto tuo padre poi se è una cosa personale insomma non rispondere come ha fatto a fare questi investimenti aveva già una grande base economica oppure si è indebitato esatto guarda hai fatto una domanda giusta perché mi ricordo mio papà mi diceva sempre che per partire lui aveva in parte a letto dei pacchi enormi due o tre file di pacchi di cambiali che all'epoca c'erano le cambiali che avevi i indebiti con la banca che oggi non si usano più e non lo facevano due medinotte mio papà è settimo di nove fratelli tutti poverissimi contadini il papà appunto era un contadino i fratelli davano una mano a gestire i campi eccetera eccetera ma mi spiegava che comunque spesso era difficile anche portare un piatto caldo a cena magari mangiavano un giorno sì un giorno no perché erano in nove più papà e mamma 11 persone quindi queste storie sono meravigliose quindi viene dalla povertà assoluta poi viene assunto lui mio padre da una ditta che distribuiva dolciumi ok lui quindi andava in giro per questa ditta con camioncino a rifornire i clienti i clienti sempre più numerosi prendevano molta fiducia di lui si era creato proprio un'empatia con i clienti eccetera eccetera lui aveva mangiato la foglia che avrebbe potuto lavorare direttamente e quindi non più fare riferimento alla sua ditta è un po' come dire ruba l'arte mettere da parte no ecco ha fatto un po' questo è brutto a dire ma lui diceva sempre sul lavoro morte tua vita mia nel senso e quindi cosa ha fatto ha preso ovviamente lui non disponeva di soldi di poter comprare il furgone che aveva la sua ditta ha cominciato con la bicicletta si è comprato una biciclettina vendeva le brioche a questi piccoli clienti mille lire mille lire bicicletta motorino motorino vespa vespa camioncino è diventato un grande distributore poi di dolciumi è partito da lì con i piccoli risparmi di questo lavoretto si è preso quel famoso terreno col quale fece la prima discoteca calua e poi da lì scalò il business a quei tempi si può dire che forse era anche un pochino più semplice rispetto ad adesso poter fare una cosa del genere però comunque tanto di cappello poi lui ha detto che ha fatto degli investimenti eccetera sì le ha fatti anche fino a pochi anni fa sbagliandone anche oggettivamente e purtroppo devo essere sincero a me è una cosa che non mi è mai andata giù e mi ha fatto sempre soffrire tanto è che mio padre essendo un buono come lo sono io ha preso tante fregature in vita tante tante poi lui era molto focus sul lavoro era sempre dentro nel lavoro con la sua testa sempre sempre ma per arrivare alto è fondamentale questo secondo me posso chiederti poi chiudiamo il discorso padre qual è stato il più grande insegnamento che ti ha lasciato ma mio padre era un uomo vecchio stampo ovviamente essendo che mi ha avuto 51 anni quindi io sono cresciuto sempre con un nonno più che un padre perché già quando avevo dici anni aveva 62 anni era un uomo vecchio stampo con la quale era difficile magari avere un dialogo aperto ma non perché lui non lo volesse ma perché con la sua personalità così forte anche la mia nonostante ero piccolo sai non era un rapporto moderno che magari vedi il copapallo a braccia ti voglio bene il bacino e fai fatica quindi lui tutto quello che mi ha insegnato negli anni che l'ho vissuto l'ha fatto senza accoggersi ti dico la verità cioè io lo guardavo e da lì imparavo come ti ho detto prima che andassimo in diretta cioè anche il suo atteggiamento con i clienti stessi nel locale lui prima di morire che aveva il tumore veniva comunque in discoteca con la sedia a rotelle e stava fuori dalla discoteca quando era momento di chiudere aspettava che tutti i clienti uscissero c'era pure il covid con due mascherine a dire tutto bene ragazzi a salutare i ragazzini 18 anni che grande umiltà sì hai capito ma sai è una cosa che vedo tantissimo anche in te cioè l'umiltà che non è scontata specialmente quando muoviamo patrimoni magari vedendo da dietro l'elettriamere è una cosa ma anche avendolo qui di persona è una roba assurda voglio prendere un'altra domanda che per me è sconcertante perché penso tu sia l'unico cioè non hai haters sono abbastanza fortunato da questo punto di vista no ma è vero cioè se vai sotto qualsiasi video di Steven non c'è una magari ce n'è uno però poi ti arriva la shurma a difenderti è incredibile magari questa sarà la prima puntata di Gurulandia senza offese nei commenti offendono noi prima che magari mi conoscessero un po' di più perché giustamente come ho detto prima sono partito anch'io da zero sui social i più superficiali potevano dire figlio di papà ecco giustamente ma io non l'ho mai negato cioè io io dico ancora oggi io sono un figlio di papà perché non è una colpa nascere in una famiglia benestante capito però l'atteggiamento che fa la differenza quindi è giusto essere figlio di papà sono partito da una base non solida di più ma avrei potuto fare tutt'altro adesso non allarghiamoci a dire cosa avrei potuto fare ma tutti ma porti avanti alla grande l'impero che ti sei ritrovato non è scontato Corona l'altra volta ci diceva che la maggior parte di questi figli di papà come dici te di Milano sputtanano patrimoni ragazzi però scusate non ci dimentichiamo che l'attività che gestisce stime insomma la discoteca uno pensa che non sia niente ma essere responsabile di 17.000 persone in un locale è insomma un qualcosa che è molto complicato perché poi la responsabilità è sempre del gestore tu hai una capienza immensa fai dei numeri spaziali ma infatti guarda come lo gestisci questo peso cioè probabilmente non ci pensi il santo sera vai fuori di testa e ti dico anche che adesso purtroppo a fare quei numeri 17.000 non arriviamo più però ci sono state serate negli anni che sono state fatte anche 5-6.000 persone adesso sì adesso questi sono numeri che sono magari 17.000 persone tipo 20 anni fa erano un tipo di persone esatto oggi magari 5.000 sono moleste come 17.000 esattamente infatti guarda dico questa cosa che non so se l'ho mai detta siamo arrivati adesso noi appunto di dover comunicare anche alla questura di Brescia prefettura eccetera il nostro planning il nostro calendario artistico con dei bollini verdi o dei bollini rossi in base a quanto la serata sia calda loro non sanno quindi sono io che devo dire questo ospite più alto rischio qua c'è più affluenza perché stiamo collaborando e ci stanno aiutando anche a darci un supporto con le forze dell'ordine e se interessate da cosa valuti esatto vera domanda allora prima di tutto io mi baso sull'affluenza che prevedo nel senso quando ho fatto due settimane fa insomma poco fa un ospite americano so bene che quando porti una data così esclusiva unica data in Italia si muove veramente le masse si muovono le masse quindi ti aspetti le 2.000 magari le 5.000 le 6.000 persone già lì allora automaticamente diventa bollino bollino rosso per l'affluenza ma poi magari sono bravissimi e magari fa un casino però io vi metto il bollino in base all'affluenza e più o meno ormai ho il tatto su come può andare una serata cioè so che un ospite exporta tot quindi comunque mi baso su su questo e quindi ci stanno un po' aiutando anche se non ti nego che comunque ci creano problemi non solo loro poi la gente stessa che quando è tanta fa casino esce dal provinciale attraversa sulle strade fa casino i vicini che si lamentano perché fanno gli schiamazzi fino alle 6 di mattina è quindi un po' difficile io parlando anche con il comune con le forze dell'ordine dico ragazzi voi dovete trattare il number one non come una discoteca ma come per esempio dico io uno stadio del Brescia che gioca in serie B che la domenica fa 7.000 paganti non ne fa tanti più di noi e allora dico perché là fuori dallo stadio mettete 40 celerini 40 celerini pronti a intervenire con manganè e al number 3-4 pattuglie 5 pattuglie capisco che sono cose diverse però la mole di lavoro è la stessa e mettiamoci anche l'aggravante che al number one sono magari orari notturni dove la gente può ubriacarsi può prendere sostanze ce ne sono tante di risse ma dipende tanto da varie e invece paradossalmente comunque questa io devo dire una cosa secondo me è una cosa prettamente o quasi italiana e ti giuro per esempio quando vado in un locale a Dubai queste cose non esistono vai a Spagna e vizza così è uguale sì probabilmente forse Dubai è il caso a parte poi Dubai puoi fare devi essere stai tranquillo ma perché buttano la chiave è la giustizia secondo me è anche proprio l'educazione della persona che va io sono stato in club ad esempio a Francoforte Robert Jones Berghain posti insomma esclusivi anche per poche persone però l'educazione che si trova cioè la persona ti dirà la spallata ti chiede scusa sì sì questo anche qui giro tanto lo percepisco poi ovvio che io mi rivolgo a un target di età esatto di età giovani ma ora sono ragazzini 16 anni con coltelli infatti parlando di ragazzi giovani al giorno d'oggi sono parecchio influenzati da questi trapper artisti pensi sia una cosa buona che abbiano tutta questa influenza ma guarda la musica ormai è un tutt'uno con il social come abbiamo permesso prima per partire con un'azienda una qualsiasi società il social devi curarlo uguale ormai anche la musica nel senso che un artista ormai non è più un artista ma è anche un influencer e quindi oggettivamente va a influenzare i giovani ma io credo che comunque i trapper e i rapper ormai sai si siano evoluti a parte qualcuno che magari è rimasto un po' più estremo di nicchia diciamo ma sono più commerciali quindi hanno legato anche la loro immagine a etichette discografiche importanti manager quindi quello che fanno vedere quello che dicono magari ok flexare l'orologio i soldi vabbè quello non stai facendo male però tipo armi o coltelli io sto notando che negli ultimi mesi o anni è sempre più pacata questa cosa appunto perché hanno alle spalle chi poi li guida giustamente quindi e trovo giusto che sia così perché come dici te poi ragazzino medio di 14 15 16 anni guardando e viene influenzato quindi dice cavolo se questo mi fa vedere che uso il coltello come se nulla fosse anche io me lo porto in giro sai se non è quella cosa brutta del giorno d'oggi che purtroppo i ragazzini si lasciano influenzare da loro e non da persone come te magari dovresti essere te l'esempio per un ragazzo giocatore sai perché adesso è il momento è il trend il trapper adesso è quella roba che le funziona quando ero piccolo comunque c'erano già un po' io mi ricordo che andava più oltrosceno Fabio Fibre sì ma anche Eminem si capite ma guarda io vedo questa moda ancora in una fase embrionale ancora embrionale no però come sento di intanto è sta calando sì magari un po' sta calando ma cioè è difficile che possa scendere del tutto questa moda così come è successo qualche anno fa con scusate è successo qualche anno fa con la musica elettronica l'EDM l'EDM bravo e io ho fatto 4-5 anni che li ho fatti tutti quei DJ Steve Occhi Afrojack Dimitri Vegas Like Mike Axwell tutti li ho portati ma tutti partiva 100.000 serata solo dell'ospite wow sì per non parlare di tutto quello che vogliono hotel 7 stelle 5 stelle camere richieste assurde assurde però lì perché è un po' poi calata la moda appunto perché con questa esplosione negli ultimi 5-6 anni di Instagram TikTok la gente cioè io parlo stiamo parlando di moda italiana perché i nomi che ho citato prima nel mondo fanno ancora il devasto in Italia invece il ragazzino magari sai il DJ non comunica un qualcosa della sua vita privata o comunque della sua essenza e poi parla inglese internazionale comunque ovviamente un DJ mentre il cantante si pone da influencer quindi ti fa vedere dove va a mangiare ti fa vedere quello che è la sua vita nei testi ti racconta un qualcosa di suo personale e quindi ti fa diventare proprio cioè ormai attrae più l'influencer che l'artista esatto infatti intanto è vero che molti influencer poi trasformano il loro essere influencer in artisti perché grazie ai numeri che hanno sui social fanno i DJ fanno i cantanti cioè il contrario adesso chiaro chiaro riguardo appunto questo trend dei trapper eccetera secondo me l'hai sfruttato benissimo perché secondo me il tuo personal brand è veramente esploso poi correggimi se sbaglio da quando hai usato un po' questi trapper all'interno del personal brand da quando hai cominciato con quel format che facevi regali si si esattamente sono parole corrette perché mi dicevo già tanto comunque devono venire da me al locale a sto punto perché non si non sfruttare ma tra virgolette in modo insomma reciproco perché poi siamo arrivati al punto che i miei numeri erano più alti dei loro quindi poi anche a loro portavo una grande visibilità con questi regali comunque che facevo come consuetudine a fine di ogni live c'era il pacco appunto che avevamo visto tantissimi io regalavo un pensiero all'artista poi anche lì ho deciso di smettere non per i numeri perché i numeri erano proprio al top sai che ci sono quelle volte che dici cavolo avrei potuto andare avanti no secondo me quando è devi mollare quando capisci che più di così non puoi fare sei arrivato ero arrivato troppo in alto ogni video che caricavo faceva milioni milioni il problema poi qual era il secondo problema è che avevo finito il ciclo degli artisti quindi una volta che avevo fatto un regalo a tutti poi diventava una banalità ogni volta che tornavano fagli a number one sono venuti tutti negli ultimi cinque anni tutti tutti non te ne manca uno tutti italiani tutti sfera ah no manca uno Fabri Fibra che non è mai venuto poi tutti gli altri Marrakesh per e basta come mai Fabri Fibra non è mai venuto ma per una serie di come si può dire non cioè non cose volute insomma di casualità per casualità quando lo cercavo io non poteva lui o viceversa o comunque aveva il tour fermo perché aveva deciso di non fare più prima di niente per un po' aspettava che usciva l'album insomma non siamo mai riusciti a incastrarla e non ti nego che sto lavorando per l'inverno per riuscire a portarlo per la prima volta quanto prima schedulate voi cioè tipo ora stai lavorando per prossima stagione invernale ottobre adesso sono con la programmazione sì cioè l'estate praticamente finisce il 10 settembre per me là e io la programmazione l'ho tutta bloccata fino a quel giorno l'estate immagino una stagione per te cioè strapiena di e invece no perché Brescia mi sa che è in effetti e invece no purtroppo dico purtroppo perché ha un estivo bellissimo enorme che si potrebbe sfruttare molto di più ma con la scusa che io ho questo invernale molto forte dove la gente soprattutto di provincia ragazzini prendono come punto di riferimento numero 1 quindi vanno a scuola da lunedì a sabato il sabato hanno un'uscita e la scelgono di andare al numero 1 e sono i 20 euro che la mamma e papà gli danno magari per dire l'estate al contrario hai sempre gli stessi 20 euro però esci lunedì a fare la festa pizzata il martedì la festa in piscina il giovedì vai a ballare non so dove poi vai in vacanza a luglio cioè devi fare poi i conti anche col portafoglio e in più ovviamente essendo in città come a Milano per esempio è risaputo che luglio-agosto si svuota la città perché la gente va sui laghi va sui mari ecco anche io lì essendo un territorio proprio circondato dai laghi c'ho il lago di Sio a destra il lago di Garda a sinistra il mare a due ore comunque la gente d'estate si muove volentieri ho un piccolo calo d'estate il 20% lo perde scusa se ti interrompo ci fai un piccolo spoiler hai parlato di due nuove discoteche che stai prendo per caso sono in zone marittime lo stai facendo per bilanciare la stagionalità diciamo allora le discoteche che ho citato prima sono tre e sono già aperte da parecchi anni una è number one una è cacao però hai detto stavi aprendo di nuovi questo è già affermato sì quello che voglio fare adesso un po' come ho insomma strutturato l'idea di fare condonato quindi la scalabilità dell'azienda ho percepito sui social già da qualche mese parecchi purtroppo ma non mi sono ancora riuscito a muovere concretamente che molti ragazzini vedono number one come un grande punto di ferimento anche dalla Puglia per dire ma guarda che qui anche da noi cioè veramente io oggi ad esempio dicevo che venivi ma gente molto più grande di me veramente quindi siamo visti da fuori come un'istituzione grazie anche al fatto di questi numeri di tiktok però moltissimi non hanno mai avuto l'opportunità di venire perché capisco che il number one apre solo a sabato tu che abiti in Puglia o in Sardegna non è che ti prendi l'aereo e dire sì lo fai una volta come esperienza nella vita ma non puoi essere un cliente fisso ecco da lì nasce dentro di me la volontà e la voglia di scalare il brand number one con più situazioni giro localizzate in tutta Italia quindi questo che tu hai detto è una cosa che io ho in preventiva farai eventi number one a giro per l'Italia a me piace un sacco questo a discoteche proprio a me piace un sacco questa voglia di scalare aumentare cosa è che ti motiva diciamo che tante persone arrivando al tuo livello si potrebbero sentire arrivate cosa è che ti motiva ad andare avanti cioè a continuare a scalare questa è una risposta alla quale secondo me non esiste una oggettiva risposta perché sono cose che devi sentire dentro perché quando fai quello che ti piace non senti l'eigenza di fermarti perché lo fai proprio di tua spontanea volontà capito poi come ho detto prima mi sono lamentato del fatto che magari sono stanco che sono da solo ma perché oggettivamente mi servirebbe l'aiuto di un'equipe un po' più numerosa che sto creando però non è che io mi alzo e dico devo dimostrare a qualcuno no io quello che devo fare diciamo che nel mio piccolo ho già dimostrato che devo dimostrare a mio padre quando ero in vita lui era orgoglioso di me adesso devo dimostrare solo a me stesso di essere in grado di poter fare sempre meglio però la domanda che tu mi hai fatto allora dovrebbe essere posta anche a so che sta Ronaldo Messi chiaro è migliore no allora dico potevo anche smettere quando ho avuto 5 ponitori invece di 10 è ossessione è passione ti piace quello che fai e continui a farlo e secondo me facendolo così fai anche le cose bene senti quanto ti torna difficile delegare altre persone perché mi ha detto stai cercando manager io ti capisco perché io quando devo delegare qualcosa del mio lavoro impazzisco cioè non ci riesco facilmente anche io uguale anche uguale e ti dico che questo perché perché poi anche se delego mi ritrovo sempre con l'ultima piccola sì o no decisione che mi viene sottoposta e quindi dico ma a sto punto faccio io capito se mi dovete sempre alla fine chiedere a me senza parlare di trovare una persona di fiducia è lì possibile è capito lì purtroppo ecco lì è un altro punto che più diventi grande e più devi mettere già in conto una percentuale di ruberia come fai a riconoscere tipo chi si avvicina per usarti o chi si avvicina per stare con te dopo grazie dopo questi anni diciamo che sai sviluppi un senso di autodifese abbastanza importanti poi certo alcuni veramente sono come si può dire irriconoscibili no si pongono in un modo e tu dai fiducia e poi alla fine rimani deluso ma questo funziona in tutti i mondi non solo lavorativo anche d'amicizia d'amore purtroppo siamo in un mondo di finzione si è fidanzato adesso io no da qualche mese però ho passato diciamo l'80% della mia vita sempre con un partner devi sapere che io sono adesso non più ero un ragazzo molto introverso e molto timido a 16 anni 17 anni forse anche un po' insicuro avevo sempre bisogno di avere in parte o l'amico o la fidanzatina per sentirmi un po' appoggiato non questo perché la mia famiglia mi facesse mancare qualcosa era proprio una mia insicurezza e incertezza che poi invece iniziando dopo il diploma a 18 anni a lavorare con mia madre nel ristorante riuscì un po' a combattere perché lei mi mise a fare i menu con gli sposi a parlare col cliente al tavolo ti sei aperto un po' esatto però insomma tornando discorso in relazioni ho fatto 6 anni con una ragazza mi sono lasciato con quella ragazza subito dopo per andare con un'altra e ho fatto 3 anni con lei un anno con un'altra due anni con l'ultima praticamente gli ultimi 10 anni ho avuto 4 fidanzate con storie molto lunghe adesso mi sono ripromesso di stare solo per un po' perché è giusto che io impari anche a stare bene con me stesso esatto e invece parlando anche di amicizie vere è difficile essendo ai livelli in cui siete diciamo è difficile trovare nuovi amici amicizie vere allora io amicizie vere purtroppo non ne ho perché ormai ho unito quelle che sono le mie amicizie con i miei collaboratori quindi i miei amici sono anche i miei collaboratori perché sono quelli che sento tutti i giorni sono quelli che quando c'è modo di andare a festeggiare un risultato insieme si facciano insieme anche perché ragazzi facendo un po' una fast life sono sempre in giro o in Italia o nel mondo come potrei mai dire al mio amico storico i miei amici storici che venivano a scuola come alle medie di infanzia perché sono quelli i veri amici ragazzi andiamo stasera a i ragazzi domani devo aprire la mia ditta di falegnameria io domani devo andare a fare il bianchino o qualsiasi altro lavoro ma comunque hanno una loro routine cosa che è il mio lavoro invece la routine è verissima e questo è anche andato a incidere molto nel rapporto di coppia perché fino a che hai un lavoro ordinario quindi ti alzi la mattina alle 7 torni a casa alla sera alle 5 tu sai che arrivi a casa e la tua fidanzata poi ti addormenti e riparti qui invece no è tutto imprevedibile non puoi fare un calcolo è anche quello che lo rende diciamo frizzante dinamico sì sì a me piace molto quello che la rende una vita degna di essere vissuta no dai alla fine cioè sono scelte però io condivido senti cosa ne pensi del business online è una domanda che faccio tutti perché comunque il podcast parte un po' da questo principio si parla di imprenditoria digitale assolutamente guarda io il business online lo cavalgato forse diciamo no tra i primi ma tra i primissimi ma tra i primi comunque ti parlo di 6 anni fa che modello dropshipping esatto stavo arrivando lì dropshipping oggi non ne voglio più parlare semplicemente perché poi in tutti questi anni in questi 5-6 anni sei molto inflazionato e anche sporcato no però ti dico che fatto con insomma un giusto focus e mentalità può portare ancora evidentemente dei buoni risultati certo è che molti diciamo gurulandia molti guru del mondo dropshipping guru delle discoteche esatto in passato hanno un po' sporcato questo movimento magari promettendo risultati ai ragazzi o comunque insomma hanno secondo me inflazionato un po' e quindi anche quando c'era il personaggio che meritava rispetto e fiducia era già frutto di un pregiudizio perché i ragazzi erano scottati da esperienze passate quindi se non sbaglio vendevi un corso certo certo io sono venuti prima a farlo e io non ero influencer non avevo tiktok non avevo niente avevo solo la mia pagina instagram 5 anni fa e comunque anche lì con solo i miei pochi follower che avevo su instagram avevo comunque evidentemente trasmesso fiducia nei miei follower avevo venduto decine e decine e decine di migliaia di euro di corsi ok che poi il corso non era l'altro di una telecamera io con un computer con il mio socio e parlavate spiegavamo come no neanche come fare a loro come avevamo fatto noi chiaro chiaro perché io veramente in quell'anno lì feci risultati ti ripeto non io loro il mio team stratosferici altissimi per l'anno della pandemia prima prima della pandemia è stata la consacrazione perché tutti poi si sono dovuti avvicinare al mondo dell'acquisto online ma quanti guru ti hanno contattato chiedendoti sponsor sponsorizzazioni immagino sicuramente ma guarda però non l'ho visto non l'hai mai fatto no no mai i più grandi diciamo non facciamo i nomi ma non mi hanno chiesto nulla peccato che non fai no ci conosciamo no ci conosciamo ormai ho tanti anni anche loro sono a Dubai giro per il mondo non mi hanno contattato ma sanno perché io sono cioè non mi hanno contattato fondamentalmente forse perché sanno anche io che non voglio più entrare in questo discorso quelli più piccolini invece che magari hanno so 1-5 mila follower 1-8 mila follower sì tantissime pagine e profili di persone private hanno cercato di contattarmi in questi anni per promuovere facendo leva sul fatto che io trasmetto fortunatamente fiducia alle persone è verissimo questo e quindi uno se punta su di me sa che comunque se io dico ragazzi no la tua voce è importante ma occhio nel senso perché è seconda di chi sponsorizzi infatti non mi ha sponsorizzato nessuno no esatto zero io ho sempre utilizzato i social per sponsorizzare te o me stesso o le tue società ma infatti mi levo una curiosità perché non usi la tua popolarità per promuovere anche i tuoi altri locali perché non ne parli mai sì allora non vorrei l'ha detto all'inizio puntata sì ha detto non li promuovo ma non perché non perché non vorrei cioè allora mi trovo veramente in difficoltà a volte a parlare solo del number one infatti tu mi dici perché non parli anche del resto perché mi autosminuisco di quello che poi faccio anche durante la giornata o a tante altre però non vorrei che poi faccio un video su number one un video sul ristorante un video sulla cantina un video su donato cioè che poi la gente perda un po' il focus su quello che sono io quindi a discapito delle altre società ormai sono riconosciuto su tiktok per il number one poi invece su instagram se uno mi segue ogni tanto mostro anche qualcos'altro diciamo però su tiktok cerco di essere più verticale possibile perché il segreto del social è essere più verticali possibile io parlo del social tiktok cioè se tu parti con una cosa di venire avanti con quella se vedi che il format sta a pagare spingere lì c'è uno youtuber o un creator particolare da cui prendi spunto che comunque che prendi come punto di riferimento da studiare diciamo attentamente o è fatto sempre tutto di testa su buon modo guarda io ti dico la verità non ho tempo di guardare gli altri e quindi no ma neanche tipo agli albori quando no anche perché io non sono mai ancora oggi non ho youtube io cioè qualcuno magari ha caricato le cose e non lo sai però non è il mio profilo ufficiale non ho youtube e non sono mai stato un fan della piattaforma o no perché ce l'abbia ma non ho avuto mai molto modo di utilizzarla e quindi no non li conosco li ho conosciuti adesso cioè perché ovviamente avendo anch'io avuto un riscontro diciamo di popolarità ci siamo un po' interfacciati conosciuti e ci sono tanti del quale insomma ho rispetto e mi piace come comunicano per dirne uno è Riccardo Dose e Dada che adesso vanno in giro fanno tutti i loro vlog salutiamo ciao ragazzi sono bravissimi ragazzi è nata da noi un'amicizia e per esempio loro non mi piacciono però dire che prendo spunto è sbagliato ma no perché io non li stimo non li rispetto anzi perché facciamo cose diverse quindi li vedo e dico bravi che fanno loro tu ormai è arrivato al giorno d'oggi fai tutto da solo le tue idee o hai un social media manager c'è qualcuno che ti aiuta che ti indirizza allora per arrivare a fare questi risultati quindi quasi un milione di follower in un anno e tutti i video tiktok sopra il milione pazzesco noi siamo una società con 36 dipendenti no scherzo in realtà sono sta solo io con solo Nicolas che è il mio social media manager e salutiamo Nicolas grande Nicolas che tra l'altro ci parlavo prima ma ha detto a 21 anni e al social media manager tu e di Donato e secondo me è un ragazzo di 21 anni che fa un lavoro di questo tipo tanti tanti complimenti assolutamente li voglio fare anche pubblicamente perché è spettacolare cioè è veramente bravo 21 anni a quei livelli ce n'è poco vuol dire che è molto serio possiamo dare un insegnamento ai ragazzi giovani prendo spunto da quello che hai appena detto Nicolas è un ragazzo che è partito a zero perché quando mi ha contattato non era un social media manager diciamo affermato aveva studiato qualcosina ma a 19 anni non poteva esserlo era ai albori non sapeva nulla nel lato pratico magari nel lato diciamo esperienza esatto però qual è stata la sua arma vincente crederci perché io ero a Dubai appunto in quel periodo del covid 2021 e feci un post su instagram dove insomma cercavo delle figure che potessero venire a Dubai con me seguimi un pochettino a fare qualche contenuto instagram perché io tiktok non l'avevo e e dico vabbè ragazzi candidatevi lascio qua il box mi arrivano varie proposte tra tutte queste c'era la sua che era un po' più quella strutturata che mi poteva interessare e ho detto guarda fai così tanto io sono qua a fare nulla perché c'è la pandemia c'è tutto lavoro da casa ti pago un biglietto vieni a Dubai ci conosciamo facciamo due esperimenti due video vedere se mi piaci e poi vediamo insomma da quel giorno non è più tornato a casa è sempre è sempre stato con me è sempre con te no no ma assolutamente vada grandissimo bella raga sono Marco Cappelli e se vuoi avviare un business online nel 2023 la MCA è la number one trovi il link in descrizione per accedere direttamente alla lezione gratuita che ti porta al miglior modello di business che tu possa avviare oggi stesso e invece parlando ai ragazzi giovani che ci ascoltano qual è un consiglio che gli daresti magari a chi chi vuole avere successo chi vuole fare soldi cioè qual è un tuo consiglio ma dici dal punto di vista lavorativo o social in questo caso in generale so che è una domanda molto generica un consiglio che daresti a un ragazzo che si sta approcciando adesso mi ha fatto una domanda che ieri mi scontri che mi ha fermato un ragazzo ubriaco come faccio a diventare ricco e famoso bravo io ho fatto un incantesimo forse forse ce l'ho fatta segno esatto dai la benedizione esatto vai fratello da domani sarei poi dopo sembra può fare anche a me la benedizione esatto però ecco cavolo non vorrei entrare in un discorso di frasi fatte è facile non è facile è molto facile però alla fine quelle sono però quelle sono oggettivamente io credo che se uno ha ascoltato bene quello che abbiamo detto fino adesso riesca a cogliere delle piccole cose assolutamente come dire non so per esempio il discorso che è importante buttarsi nel mondo delle social se è un'azienda passione ossessione ossessione non avere paura di metterci la faccia del giudizio della gente perché tu hai detto prima non ho haters ma anche se io li avessi incontrati nel mio percorso sarei comunque andato anche perché quando parti a metterci la faccia inevitabilmente arriveranno e quello è una cosa che devi mettere in conto bravo esatto io guarda quando mi interfaccio con poi arrivo a risposta con sia donne che uomini che stanno iniziando sui soci mi dicono dammi quel consiglio e prima cosa che ti dico è cavolo di qualcosa mettici la faccia come puoi pensare a diventare famoso virale solo con delle foto per esempio che non trasmetti nulla alla gente quindi mettici un qualcosa di tuo poi puoi essere odiato amato ma devi sbilanciarti l'emblema più grande del successo di Gianluca Vacchi citandone uno che ce l'ha fatto tanti anni fa partendo da una base di ricchezza molto alta è stata quella di metterci la faccia nonostante aveva un'età già avanzata si è messo a fare i suoi balletti giudicato negativamente perché dicevano cosa fai sei uno vecchio eppure è arrivato ad essere Gianluca Vacchi con 20 milioni di fole quindi dico primo step è questo quindi ragazzi metterci la faccia ovviamente non deve essere una cosa forzata quindi quando lo fate dovete comunicare un qualcosa che veramente vi appassiona vi piace perché poi lo trasmetterete all'utente finale perché se fate una cosa finta solo perché appunto adesso va di modo a fare il rapper quindi ti metti a fare una canzone perché speri che come loro diventi famoso non ce la farai mai cioè deve essere una cosa che ti viene da dentro sì te stesso sì te stesso questa è la chiave del successo sicuramente sui social lavorativamente parlando a livello più imprenditoriale diciamo più imprenditoriale invece sicuramente il mindset fa la differenza però qua mi diranno quelli che stanno ma non si ho capito però ragazzi tu sei parito con i milioni è più facile sono oggettivamente d'accordo sul fatto che se si parte oggi nel 2023 da zero euro sia veramente complicato e non mi sento di poter dare un consiglio perché non avendo vissuto quella situazione lì non saprei magari anch'io come uscire come uscire da questo ciclo vizioso mentale perché sei a zero e non riesci a vedere la luce è anche vero che a oggi secondo me quando parti da zero hai comunque più ci sono tantissime opportunità in più rispetto a magari toccando quel mondo che hai citato prima dell'online sicuramente ha tante sfaccettature che puoi perlomeno evitare andare in fabbrica per i 20-200 euro magari non diventi milionario però tirarti fuori lo stipendio ce l'ha poi tranquillamente no poi se posso dire una cosa a tuo favore che te dici è facile a me mi dicono io sono già partito in realtà secondo me ci sono tante persone che nascono già con tanti soldi che ci mettono due secondi a bruciare patrimoni te invece sei uno che li moltiplica e io penso che di questo tuo padre sarebbe veramente fierissimo grazie mille ma poi non è un discorso al di là del patrimonio eccetera eccetera ma tanti soldi tanti problemi nel senso non è che è tutto rose e fiori o è facile investire perché tanti soldi si ritorna al discorso delle 17.000 persone in una discoteca di cui tu sei responsabile assolutamente sì è bello però quanti a casa sarebbero disposti a tenersi sto peso? è vero perché tutti poi vedono solo il bello è tutti facile tante volte non si torna la notte di qua e di là in certe situazioni bisogna viverle bisogna anche essere onesti nel dire che insomma sono felici di avere questi problemi esatto per me è certo sono problemi belli ovvio però magari la gente a casa non si rende conto parlavamo prima dei calciatori top vedono milioni e milioni sappiamo che il mercato del calcio è dopatissimo ormai però se solo quelli vengono scelti su milioni di persone è perché avranno qualcosa in più daranno una motivazione al club per dargli quei soldi quindi metteranno passione dedizione impegno sacrifici poi certo le cifre che prendono magari sono ingiustificate per noi magari insomma hanno attraversato la pandemia che vuol dire discoteche noi due anni di chiusura ci hanno dato niente primi a chiudere e ultimi a aprire perché è il contatto le discoteche sono state e tra l'altro secondo me è stato anche quando vi hanno fatto riapidire comunque non è stato semplicissimo perché le persone si erano un po' disabituate uguale col cinema tipo un po' dimenticata questa cosa era un po' rallentata la cultura ora no ora si è ripresa hai detto una cosa giusta si era rallentato un po' il mondo le abitudini della gente comunque vuoi non vuoi non è mezzo sono un po' cambiate pensa i giovanissimi che aspettavano i 16 anni per poter andare hanno perso quella fascia di l'anno e mezzo e sono andati per la prima volta in discoteca a 18 pensa se noi invece di andare a Tanks erano a casa per la pandemia tornando al discorso della pandemia come l'hai vissuta a livello mentale sei stato parecchio preoccupato sono stato preoccupato sinceramente devo essere onesto non dal lato economico perché fortunatamente come abbiamo presentato prima tutto il discorso una cosa molto recente il mio papà poteva già non lavorare più da forse 20 anni per le prossime 30 generazioni nessuno mio parente può lavorare volendo quindi non ero preoccupato per questo motivo ero preoccupato più perché sai quando vanno a toglierti la cosa più importante che non sono i soldi ma la libertà ti viene un senso interno di depressione comunque perché poi sai come ho detto prima io essendo molto fast life cioè sono sempre uno in movimento se mi fermi cavolo mi ammazzi quindi ho trovato questo è brutto dire ma è la verità un escamotage l'unico modo che mi era concesso per poter vivere una vita normale ho preso il primo volo che c'era per Dubai che era la città quella con meno contagi meno morti ad oggi ancora infatti è tipo 200-300 morti ha fatto in due anni niente e sono scappato là e mi sono fatto un anno e mezzo come ci stavi a Dubai bene benissimo ma poi vabbè anche appunto frutto del fatto che vedevo l'Italia e l'Europa il mondo tutta chiusa e là invece tu stavi in spiaggia e facevi quello che volevi vita normale un po' di vita normale quindi l'ho vissuta male più che altro perché sai questo effetto negativo l'ho visto anche su parenti vedi mio padre che è mio padre stesso mio DNA quindi un uomo molto dinamico quei due anni lì gli hanno fatto perdere vent'anni di vita l'hanno cioè è invecchiato di vent'anni in due anni pazzesco fino a che era in discoteca era un uomo quei due anni lì l'hanno proprio cambiato ma è normale cioè è super capibile quindi ho sofferto più per i miei parenti e per i miei coetanei ovviamente sperando poi sai cosa è la cosa brutta che non vedevi neanche la luce perché dici boh chissà quanto dura e uno da fuori pensa quando c'è soldi va tutto bene in realtà no no i problemi li abbiamo tutti poi guarda per esempio quanto paghi di superbollo per l'huracan al minimo 10.000 euro di superbollo eh ma pensa che pago 50.000 euro all'anno di IMU sul number one solo sul number one solo di IMU solo di number one 50.000 euro e tipo di bollette quanto spendi al mese ma lì dipende da quante salate proponi comunque anche lì sei sui 200.000 all'anno una domanda più o meno sai quanto costa il mantenimento di un locale come il number one annualmente tanto tanto se non ci mettiamo dentro l'artistico chiaramente esatto solo spese fisse esatto spese fisse ah un milione un milione e mezzo di spese fisse gli artisti tipo per 10 poi si dipende poi lì è andata a vedere perché se spendo 30 di artista mi auguro di incassarne ah certo che è l'artista che hai pagato di più in assoluto Dimitri Vegas Like Mike ok tutti quelli sempre 145.000 di cachet più tutto quello che ci diciamo intorno sono arrivato sui 170 per suonare 60 minuti e tra l'altro fu anche una una brutta serata questa perché giocava Italia Germania europei semifinale finiti i rigori Italia viene eliminata i rigori dopo mille rigori finita a mezzanotte la partita quindi per me era un problema perché dai esatto inizia a piovere io non avevo lavorato con le preventive quindi era solo frutto di quello che arrivava e lì fu una serata negativa a livello di incassi poi loro da lì dal number one alle 3.30 partirono con un aero privato che io ho dovuto prendergli atterrarono Ibiza e fecero la chiusura dell'altra discoteca anche loro fanno una vita comunque sì però anche lì soldi con la pala eh sì e zero responsabilità perché loro comunque 150.000 le hanno presi anche se lo carcero sì c'era pieno ma no come doveva essere ma loro che fanno due grazie a me e mi ricordo quando avevi fatto la proposta donato di aprire la paniconoteca che poco dopo successe che gli chiusero il profilo tiktok no io in quel momento pensavo cavolo forse Steven allora ha fatto una cavolata a fargli questa proposta però tipo che spiga sì capito nel senso di dire eh ora gli hanno chiuso il profilo magari è passato quel momento e la cosa mi ha sorpreso è che ti hai continuato a crederci e poi c'è stato questo successo enorme cioè c'è avuto qualche dubbio in quei momenti quando gli hanno usato il profilo oppure facciamo un passo leggermente indietro quando ehm gli faccio la prima proposta che va virale un po' ovunque che poi anche è stata presa da molti altri preditori come spunto per farla a loro volta a Donato in modo che Donato avesse davanti a sé una possibilità di scelta non solo Steve ma c'erano anche altri che si erano proposti ehm Donato eh mi contattò in privato dicendomi guarda sei stato gentilissimo anche perché era inevitabile che mi rispondesse perché sotto l'hanno taggato diecimila commenti mi ricordo disastro ma non perché volevano bene a me perché volevano bene a lui e il suo insomma il suo fan medio la sua community diceva cavolo cogli l'occasione di Steve anche ti risolve sì mi ricordo e poi il treno che passa una volta è basso esatto e lui che non mi conosceva invece perché Donato comunque è una persona un po' più grande ed edita al lavoro da 27 anni come salumiere quindi stava lì tutto il giorno quindi sai arriva il momento che vede la mia proposta mi contatta mi ringrazia ma rifiuta con la insomma con la motivazione di voler fare un qualcosa da solo con la moglie insomma da solo come giusto che sia meno male ma magari invece le poteva dare anche meglio non si può sapere non lo so non lo so però niente mi rifiuta la mia offerta dico guarda Donato ci mancherebbe ottimi rapporti anzi vorrò trovarti buona fortuna passano poi due mesi e anche tre mesi tre mesi a fine estate mi ricontatta Donato dicendomi guarda se l'offerta è ancora valida se ti va ci conosciamo ci incontriamo ne parliamo un po' meglio di persona e capiamo le condizioni lui nel frattempo stava continuando a crescere no no lui nel frattempo era lui era proprio era proprio quel periodo dove aveva smesso di lavorare per la sua vecchia salumeria ed era due mesi tre mesi sabatici dove nei suoi social portava contenuti anche un po' diversi perché ovviamente non avendo più a disposizione il banco da salumiere magari faceva vedere la sua vita quotidiana la moglie i bambini e quindi aveva perso un po' il focus in quei tre mesi tanto è vero che poi io parlando con i miei social media maggi cavolo ok che adesso Donato è accettato comunque è aperto però è uscito dal personaggio da tre mesi quindi è questo c'è da fare un po' di polizia c'è da fare un po' di non paura però magari ripensamento forse per un momento ormai poi mi ero talmente tanto esposto che era una cosa che mi gasava anche a me fare sinceramente quindi ho detto ok Donato vediamoci abbiamo deciso i nostri termini economici siamo diventati soci alla pari come non è un segreto ho sempre detto quindi siamo 50 io 50 Donato in questa realtà e poi lui ha anche uno stipendio da lavoratore in quanto socio operativo sul posto niente l'hai Donato facciamo qualcosa nel frattempo bam gli buttano giù il profilo profilo bannato non c'è più niente anche lì in alta mazzata abbiamo dovuto fare un lavoro insomma di recupero il profilo e poi con Nicolas andare a creargli comunque un ecosistema per proteggerlo per far sì che tutti i contenuti fossero studiati e lavorati in un certo tipo di modo come faccio io non è che io carico un video che sto mangiando la pasta per dire perché ogni video che faccio deve avere un messaggio è uguale a quello che abbiamo costruito con lui abbiamo poi iniziato a selezionare i posti quindi ovviamente per capire dove era meglio mettersi in modo geologico diciamo e abbiamo trovato questo immobile che era una buona opportunità l'abbiamo sistemato poi con tutte le dovute insomma avrei fatto un ottimo un grande lavoro aperto accanto ai monti lattari l'avete fatto apposta o? guarda molti hanno visto che abbiamo aperto in parte al suo ex negozio io personalmente non sapevo manco di dove erano loro lui tantomeno non ha voluto fare questo come provocazione ma oggettivamente quella via lì che è la pigna secca dove siamo noi è la via più famosa di Napoli per discorso mercati quindi c'è chi vende il pesce la trippa l'avete fatto solo per un senso di business era perfetto capito quindi non è niente proprio contro gli ex datori che sono anche rimasti in buoni rapporti a quello che sono questa cosa di Donato con Ossenza Molica ha preso spunto da Tommaso Mazzanti l'antico te lo dico perché noi siamo vicini a Firenze lo conosciamo molto bene parte Antico Binaglia stai cercando un po' di prendere quell'onda lì di fare un po' quello che ha fatto Tommaso guarda Tommaso l'antico vinaio non sono stati per me all'inizio uno spunto perché neanche io sapevo poi cosa effettivamente sarebbe diventata questa paninoteca salumeria però dopo quando ho visto in questi mesi questa scalabilità questo flusso di migliaia di persone al giorno che vengono a farsi la coda di tre ore per un panino ho detto cavolo qua si può replicare il business dell'antico vinaio è da lì che mi è scattato il numero uno numeri pazzeschi con percassi gruppo percassi si parla non più di milioni ma di miliardi quindi è un altro livello rispetto no mezzo miliardo 500 milioni di fatturato no 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 si però la famiglia percassi dispone di un patrimonio di miliardare in conseguenza stiamo parlando di un altro tipo di livello rispetto a quello che siamo noi adesso lo stanno aprendo appunto in tutto il mondo ma è quello che volete fare aprirai un donato a Firenze non si dice guarda voglio cogliere questa occasione che mi hai fatto la domanda per insomma complimentarmi con Tommaso per il lavoro che ha fatto anch'io tra l'altro Tommaso l'aspetterei anche qua a Burulandi volentieri Tommaso ti aspettiamo io ho scritto anche in privato ci siamo sentiti sono stato da lui a New York adesso ci vedremo a Milano è un grande mi piacerebbe prendere sempre più spunto da lui per replicare Molico Senza salutiamo Tommaso tutti insieme vada come la fuma vada come la fuma e poi dicono ma tanti sai che pensano che io ho donato e abbiamo magari qualche attrito magari con una realtà del genere ma per noi non potrà mai essere un attrito perché a parte che sono due prodotti diversi fra di loro no? ma poi fateci caso bravo sono due prodotti diversi tra di loro no ma perché le persone vedono competizione vedono il panino perché uno è una focaccia e uno è un panino vedono la stessa cosa prendete questo come spunto dove apro un McDonald's a 200 no 200 Burger King bravo vero quindi quello che io voglio fare con Tommaso è dove c'è lui ci sono anche io perché vuol dire che il territorio ne guadagna infatti quando lui annunciò che stava aprendo un punto vendita anche a Napoli molte persone sotto scrivevano di fare una collab tra voi due insomma volentieri io sono aperto a tutto ma ci sentiamo quindi Tommaso a differenza tua te lo dicevo prima della puntata ha tanti hater però vero? guarda sinceramente Tommaso non so se ha tanti hater forse non tanti hater in generale no però per esempio Steven esatto mi sono posto male non ha tanti hater però per esempio Steven spesso e volentieri mostra un po' anche giustamente quello che è il suo lifestyle quelle che sono le sue macchine i suoi orologi e ci sta cioè fa benissimo secondo me si spacca il culo sì sì però è come come diciamo da inizio puntata non ha hater Tommaso l'unica volta che ha pubblicato la macchina mamma mia l'hanno massacrato mamma mia poi lui ha spiegato anche insomma ha spiegato questa cosa ha detto che si sentiva di farlo appunto perché cavolo è partito con un anno non so se non ricordo una Opel o una Renault scassata in vent'anni poi ha scalato si è tolto uno sfizio cavolo è più che lecito voglio dire ma come mai agli italiani se una persona parte da zero e arriva lì parte questo vabbè non ci daremo mai una risposta cioè perché noi abbiamo lui qua e siamo carichi no perché per noi lui è un esempio capito e cose che magari le persone forse sai c'è una divisione tra l'italiano medio diciamo però probabile quello che vede stima e prova emulare che è la parte sana dell'italia ma anche del mondo quindi quella che ti scrive sei grande stima e ti stima anche io voglio essere come te e quindi diventi un punto di riferimento e l'altra che magari ti vede vorrebbe riuscire a essere come te o comunque a fare quello che fai ma non crede abbastanza in se stesso e quindi dice non ce la farò mai quindi è più facile provare a screditare te a tirare giù te rispetto che a elevarmi io capito? mettiamoci tra tutte le cose che abbiamo detto finora anche la self confidence altra cosa che è assolutamente se a me una persona gli fa troppo male pensare di dire ah perché Tommaso ha la Lamborghini io no magari lui si vede che ha truffato oppure scusami questo vende panini bravo esatto oppure dire cavolo ma vestite dei pazzi a fare due ore per un panino di donato che è un panino di merda però intanto la gente fa tutti i giorni tre ore per mangiarci un panino di donato quindi comunque perché? c'è un motivo c'è un motivo capito? ma poi anche la cosa strana dell'Italia è che viene offeso anche donato è una cosa buona quando mi sbaglia la mozzarella davanti che è tutto là poi certo che comunque io ti vendo ti vendo un experience nel senso che certo vabbè la vendita è emozione sempre capito bravo cioè ti do un negozio di un certo tipo con una comunicazione di un certo tipo con donato che è lì che ti saluta magari a volte vieni su un negozio quindi c'è la sorpresa e quindi la fai anche volentieri la coda perché dando per scontato che il panino sia di ottima qualità perché i prodotti che noi mettiamo all'interno sono tutti super selezionati è anche vero però dobbiamo dare adito a quello che dicono che alla fine è un panino quindi di conseguenza se tu ti compri quei prodotti top te lo puoi anche fare da casa però è l'esperienza che tu quanti negozi fanno panini in Italia hai capito però quanti hamburger posso farmi a casa è pieno hai capito quindi uno paga anche l'esperienza sì sì però tornando sul discorso di later proprio per far capire i livelli nel quale siamo in Italia cioè offendono anche donato e io dico ma come fai a offendere una persona che fa panini nel senso sai ora è una persona che mostra uno come donato che vuoi dire pulito l'abbiamo già salutato ciao donato è vero adesso è a Gardaland ogni tanto si riposa prima volta dopo quattro mesi apertura ha preso l'occasione con i suoi figli per andare a Gardaland meritata meritata grande donato è vero ma chiunque si ritorna sempre al solito discorso se ci metti la faccia in qualche modo anche uno come donato che ha la faccia più pulita più buona e taglia un panino non fa nient'altro non fa niente non è che c'ha collane come posso averla è l'invidia del successo esatto e quindi cercano di tirarti giù insieme a loro capito ecco l'ho fatto senti Steven abbiamo un format che facciamo ogni tanto con qualche ospite dove essenzialmente ti diamo da mangiare qualcosa di assolutamente super piccante ok anzi ti facciamo delle domande scomode ok e te devi decidere o rispondi a questa domanda oppure mangi questa roba super piccante ci stai premetto che io nella mia vita non ho mai mangiato nulla di piccante perché proprio non mi piace però facciamo se vuoi per solidarietà lo mangio insieme a te se non rispondi lo mangio a te mangio mangio vabbè il nostro camicase dove abbiamo un ferocino e sono là guarda non so al supermercato vai così ti fa supporto ah il latte aspetta ragazzi quello meno piccante possibile si può prendere il latte c'era una mucca in sala l'abbiamo portata da un allenamento per bere il latte appena monto di alta qualità allora qui abbiamo qui qua la domanda scomoda si vede? io una la faccio qual è quello più buono? allora questo è il meno piccante questo medio e questo più piccante di tutto ok questo è quello medio questo è quello meno basta un morzino questo è più bello da vedere eh sì esatto faccio quello faccio un peperon insomma piccante faccio un bicchierino per il latte ma il latte perché? eh dopo il piccante perché sennò che sfiamma sfiamma poi è top perché mi farvi vedere mucche perché non mi pagano quindi ah ok esatto non mi piace il piccante sono interrogante al latte quindi vomito e vado in bando ah non è top non lo so stiamo cercando di uccidere uccidiamo che cos'è oggi? corrispondi o muori ragazzi adesso mi era venuto a fare un podcast eh c'è l'acqua vai vai allora lattizziamoci via buono buono 7-8 litri d'acqua allora abbiamo bicchiere io no Max guarda che latte Max stai calmo cavallo perché la gente non lo sa ma qui c'è anche Max Max felicità special guest special guest vieni a mangiare un peperoncino perché tu sei il re vieni a mangiare un peperoncino parlando di piccante ah se ti hai messo un piatto guarda ti lascio chi non più piccante di Max ti rifacciamo con Max non puoi? no lo mangio io mi guardi mentre lo mangio va a te lo mangia sia per te che per Max lo mangi tu due Max se la vuoi fare una domanda piccante a Steven o rispondi o mangi la puoi fare te possiamo fare così? conosco abbastanza cose piccanti di Steven se la vuoi fare la facciamo ma Matteo non l'hai tirato fuori basta che non rispondo mangio ma tu vuoi chiedere quello che vuoi ma dove l'hai tirato fuori se non rispondo mangio tu mi chiedi quello che vuoi si ma ma c'è capito c'è sai già tutto si cazzo chiedo è una roba è una roba che allora l'obiettivo è quello di far mangiare Steven perché noi siamo cattivi no ma sarebbe allora te ne faccio una io faccio una io perché io di base so fare le domande stronze ma le tipe ah ok tipo una domanda stronza che faresti a una tipa eh ma no sarebbero diverse ovviamente ci dovrebbe essere una tipa però si sarebbe troppo pesante quella che è in testa quindi fate la mia vabbè per much boy dico sì faccio una io faccio una io ok parto io allora Steven sappiamo che hai avuto tantissimi ospiti a number one ok allora voglio che mi fai il nome dell'ospite più antipatico in assoluto che hai avuto come ospite a number one italiano ecco bravo stavo dicendo italiano internazionale te lo dico perché tanto non ci vado italiano ovviamente ho sviluppato in questi mesi e anni di conoscenze simpatie e non però ovviamente c'è rispetto per tutti anche perché devo essere sincero quando vengono da me sono molto professionali anche perché il number one è un bel banco di prova per tutti adesso quindi sono molto bravi una bella vetrina comunque quindi però ecco visto che non posso darti il nome ah oggi subito per forza ma faccio darti il nome non posso allora io qua vedo ragazzi ah facciamo vedere i livelli di piccante esatto questo è il meno piccante anche se non si direbbe esatto io per correttezza non mi sento di essere proprio una checca ma neanche eh vado sulla la mia di mezzo ok andiamo questo qua mi sembra va tutto no un pezzo un pezzo vado eh un pezzettino grande vai un pezzettino eh com'è? inizio è buono adesso arriva uff tu parte uff ma c'è il mio mangiare un altro parte mi sembra che ti garbi arriva 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 ma è immangiabile mamma mia guasto hai risposto subito basta si finisce con le domande sei male? no no bene la dopamina adesso un'altra domanda un'altra domanda un po' di carica vai vai non pensare è finito così facciamo un altro podcast è vero Max è la previsia tu lo fai tirare questo io parlo da te come funziona ah io so beh devi sapere che Max prende molto spunto da me però io a livello pubblico non è fai te una domanda piccante a Max quando faccio non posso no vabbè però per vedere se risponde o no una domanda che non può rispondere anche non può rispondere cioè vedi se riesci a non farlo rispondere ah cavolo è dura vabbè stai zitto volevo semplicemente chiedergli quando potevamo fare un film insieme non io e lui ma con altri ovviamente ma per me è anche stasera quindi ragazzi in esclusiva per Gurulandia presto Steven Baslar e Max Felicitas in collaborazione sulla piattaforma di Max perché lui non usa altra piattaforma in arrivo camminzioni 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 esatto te hai un'altra domanda per stime dai un'altra facciamo ora a sto punto l'obiettivo è farlo rispondere a qualcosa te la faccio una possa per non farti rispondere perché è una cosa privata ancora mi fa mangiare avevamo detto il contrario quanto è il tuo patrimonio? il patrimonio è una cosa del quale non è che io non voglia parlare perché su alcune cose è quantificabile è difficoltà mamma mia che magari sono il valore oggettivo delle case che possiedo delle macchine che possiedo delle aziende che possiedo e lì riesco a quantificarti magari un valore oggettivo in termini di denari a livello liquido a livello liquido è quello è difficile pure quello ti dico la verità è un peperoncino giallo ti dico la verità è difficile ma perché no perché voglio flexare in questi anni ho aperto talmente tanti conti in giro da ovunque che anche la mia extra ragazza mi diceva sempre ma come fai? ho 30 conti 30 carte questo io taglierei no ma tagliare è tutto dichiarato quindi dico faccio fatica a volte anche devo fare nelle note quello qua quello qua e poi comunque stavo dicendo è un po' difficile da fare una stima perché io non sono una persona ferma dove ho smesso di lavorare ma ogni giorno per dire oggi donato è incassato 7 mila euro quindi ho 7 mila euro più di ieri cioè per dire no? sì sì certo quindi è tutto è un no stop è un no stop donato fattura su quelle cifre giornaliere? non lo so facciamo vedere che la mangiamo a tutti ora mangiamo un pezzettino e stai a vedere sì fai il calcolo migliaia di panini al giorno comunque un migliaio? anche sì anche di più sei una persona che quando esce offre un po' io pago per tutti pago per tutti nessuno mi ha mai pagato anch'io questo problema vado a smetterlo i cappelli il 25 dicembre vi trasformate tutte e due in babbo natale sì sì io ho sempre pagato per tutti questo è un altro problema però la domanda di prima che mi avete fatto discorso degli amici probabilmente se avessi una routine con gli amici dove si esce a mangiare la pizza si divide eccetera allora sì ma uscendo quei collaboratori essendo io il capo pago per tutti sempre siamo i 6, 7, 8 e me lo scarichi anche sì però insomma ecco alla fine mio papà diceva che paga è sempre che quelli che pagano sono sempre quelli quindi vabbè mi fa piacere farlo perché ho la possibilità e poi a me mi piace circondarmi di certe situazioni e quindi se voglio vivere certe situazioni devo per forza scendere a compromessi fa anche bene un po' di beneficenza mi è venuta a mente ora una bella domanda piccante questa cosa la preparo già ti sei mai divertito con un video di Max? rispondo nella massima della verità ti giuro ma veramente ti giuro siamo amici ci conosciamo mai da tanto non ho mai visto un suo video giuro su qualsiasi cosa non ho mai visto un video di Max perché lui ci ho pensato io a recuperare ci è rimasto male no no non l'ho mai visto perché ma beh lui prima ancora che diventassimo amici era un'icona nel suo mondo quindi è ovvio che sapevo chi era cosa faceva ma non l'ho mai visto perché i suoi video lui è stato bravo non sono visibili quindi magari quando e poi devo dire questa cosa che vi giuro io non pratico come si dice Max? disturbazione non hai tempo no perché quando poi voglio fare faccio concretamente non faccio da solo diciamo e quindi negli ultimi anni non ho mai avuto neanche modo di cercare su varie piattaforme ma anche quando ero più piccolo che magari volevo cercare qualcosa di suo non si trovava mai nulla perché era molto bravo a chiudere il mercato sì pubblicamente savi veramente poche cose di Max capito? grande Max mi farebbe anche strano non il fatto che lo conosci no mi farebbe anche strano sì esatto piuttosto dico cioè facciamo la cosa insieme e lo facciamo live ci sta fai un appello che ci guarda alle ragazze in ascolta tu puoi ah no tu non puoi scusi no la cancelliamo che sono il fidanzato devo farlo l'appello adesso però per l'appello ma è lavoro ma è lavoro ma forse sono stato mollato in diretta oggi ah oggi in diretta è mollato mentre ero l'appello ah vabbè allora possiamo fare l'appello ma chiedi ma sei serio ci facciamo un appello ma sei serio o no ma è vero che stai dicendo? sì sì non scherzo ti hanno si lascia ogni settimana sì non è facile adesso sono single ora ah quindi adesso prima puntata ha detto ora sono fidanzato per ora per ora quindi in questo intervallo ti sei no al momento sono single poi non so tra un giorno magari tra un'ora ci fa pace poi diamo anche uno scoop noi settimana prossima partiremo per Micronos insieme beh ciao ragazzi quindi vorrei essere una mosca sei single quanto resti da? poco cinque giorni vuoi stare a Ibiza con Roberta che tra l'altro viene qua con Roberic e Grimbaud a Ibiza vado mi piace ovviamente sì prendo anche spunto perché su alcune cose lo puoi prendere nel senso l'arredamento il faro nuovo anche magari lo show esatto però devi calcolare che là 100 euro costa entrare la mea costa 20 quindi è un altro taglio posso prendere spunto ma purtroppo non posso replicare non perché io non abbia la possibilità di farlo ma perché il gioco non sta in piedi dopo dovrei chiedere 50 euro 60 euro a sabato che è impossibile perché a Ibiza c'è un reciclo tale che te lo permette a Brescia sono sempre quelli che è vero e nulla siamo finiti a parlare di lavoro ma stavamo parlando di figa sì esatto si ritorna sempre lì eh ragazzi dai io direi va bene va bene bellissima puntata Steven anche a te come a tutti gli ospiti che sono mesi ti chiedo la firma su queste doghe sgangherate di Gurulandia scegli te dove farla in alto 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 attenzione se vuoi puoi prendere proprio tutta la dogma Steven grande grande grazie mille a Steven per essere stato con noi grazie a voi grazie un piacere grazie ovviamente rinnovo ringrazioni anche a Max grazie a tutti ragazzi e noi ci vediamo alla prossima puntata e al number one ora vengo al number one ci va ci va E' un bel palo.